Una vittoria limpida che ha messo in evidenza un organico ben disposto sul rettangolo di gioco. Dopo un paio di occasioni di una rete annullata per sospetto fuori gioco di Villa, la compagine dei Templi passa in vantaggio con il bomber argentino al 27esimo dopo essersi liberato con una finta dell'attenta guardia del diretto avversario. L'Akragas è padrona del campo e deve attendere i minuti iniziali del secondo tempo per raddoppiare. Corre il 54esimo, Gambino di testa impegna severamente il portiere di casa in grassia, il quale respinge distinto al pallone. Interviene più lesto di tutti biondo che insacca inesorabilmente. Gara apparentemente finita, anche perché il Monreale stende a trovare le giuste contromisure per contrastare il gioco spumeggiante degli ospiti. Al settantesimo l'arbitro assegna una punizione al limite dell'area palermitana. Assist calibrato dell'ottimo d'amico e per il nuovo entrato di Kata è un gioco da ragazzi insaccare di testa. A macchiare comunque questa bella vittoria, che vale la vette alla classifica, l'invartunio è patito da Maurizio Villa, il quale ha avuto un risentimento muscolare all'interno coscia. In settimana ci saranno degli approfondimenti sanitari per valutarne le condizioni. Anche in vista del doppio impegno settimanale in Coppa Italia con la Folgore e poi quello tanto atteso con la Sangataldese allo Stadio Esseneto domenica prossima. È un'Agracassi che in questo momento sta cercando di dare tutta se stessa ed è una cosa che avevo chiesto ogni vigilia di gara perché comunque so che intanto le partite vanno giocate col cuore e quindi è una cosa importante vedere che questi ragazzi non si risparmiano e mettono tutta l'energia. Poi a questo associo anche l'aspetto tecnico e allora lì deve venire fuori il lavoro che svolgi durante la settimana. Stiamo facendo abbastanza bene e oggi rispetto alle altre volte abbiamo esteso la nostra buona prestazione anche nel secondo tempo e quindi diciamo che sono soddisfatto però sono consapevole del fatto che ci si può sempre migliorare e quindi dobbiamo stare lì sul pezzo e dare continuità a quello che stiamo facendo adesso. Adesso la Coppa Italia contro la Folgore, gara di andato tramite finale e poi domenica la super sfida contro la Sangataldese. Sì sì sì, super sfida non lo so se possiamo definirla perché comunque siamo solo alla quinta giornata di campionato quindi per noi sarà una partita di campionato importante rispettando sempre gli avversari ma prima c'è quella di mercoledì da preparare e poi ci dedicheremo anche alla prossima. L'ultima domanda, come sta Viglia l'attaccante più prolifico dell'Acregas? Viglia ha avuto un risentimento alla coscia dovuto alle partite ravvicinate dovuto al fatto che magari il ritiro precampionato non l'ha fatto insieme alla squadra quindi magari ne risente, un po' di fatica. Adesso vediamo in settimana come sta e valuteremo se fare un esame clinico o meno.